buongiorno sono urbano della sani moreno volkswagen audi di fucecchio vi presento questa mercedes slk 200 compressor dell'anno 2006 è un 1.8 a benzina con impianto gpl montato nel 2012 quindi la revisione valida fino al 2022 perché vale 10 anni è di un nero metallizzato come ben vedete ecco qua con i suoi cerchi in lega fari fan di nebbia e sensori di parcheggio sia anteriori che posteriori ecco qua vi faccio vedere alcuni particolari degli interni tappezzeria interna non presenta strappi o usure ecco qua come ben vedete anche il sedile lato passeggero ecco qua la vettura presenta 173 mila chilometri vi faccio vedere ecco qua li vediamo ha il suo volante multifunzione l'autoradio originale con il cd il clima automatico ora vi passo a far vedere il funzionamento della cappotta elettrica naturalmente ecco qua ecco qua benissimo ok e la macchina quando è aperta si presenta così molto molto bella e sportiva vi faccio vedere anche dove è messo la bombola del gpl eccola qua completamente funzionante logicamente ecco qua questa vettura è già presente presso il nostro punto vendita quindi è già disponibile sia per la visione sia per la prova su strada come il nostro uso di solito fare quindi non rimane che dirvi arrivederci a presto presso il nostro punto vendita vi aspettiamo a presto Grazie.